buongiorno a tutti oggi sabato 9 settembre ore 11 08 buongiorno a tutti e le prime pagine dei giornali ovviamente le prime pagine dei giornali non menzionano il fatto delle ultime ore e di cosa parlo del terremoto in marocco non lo troveremo sulle pagine di giornale ovviamente perché è successo dopo la preparazione dei di fatto dei quotidiani e dei giornali triste vicenda quella che stanno vivendo il pop quello che sta vivendo il popolo marocchino per quello che è successo questo terremoto fortissimo centinaia centinaia di morti sono solo le prime ore quindi ne capiremo di più più tardi e cosa che possiamo fare stringerci intorno al popolo marocchino e pregare per loro perché veramente una strage una strage incredibile guardiamo le ultime notizie comunque vi aggiorno sulle ultime notizie il magnitudo del terremoto nascosto in marocco è stato del magnitudo 7.0 nella regione proprio di marrakesh quindi anche un punto molto importante del marocco e l'ultima l'ultimi minuti dicono oltre 600 vittime si parla di 632 in questo morte in questo devastante terremoto 6.8 l'ultimo dato e non la troveremo sui giornali stringiamoci intorno al popolo marocchino e purtroppo è successo tornando le prime pagine dei giornali tanto buongiorno a tutti Carlo Clemente mi dice provincia di tanto soleggiato 28 gradi ciao Carlo buongiorno ciao Paolo ciao da udine vi vedo un po da tutta italia abbiamo graziana da lugano ciao graziana anche oltre oltre italia forza marocco dice michele zambolin assolutamente sì forza marocco mi ci dispiace siamo affranti per quello che è successo un popolo che tra parentesi negli ultimi anni sta creando un turismo importante stanno lavorando bene hanno hanno creato hanno un'economia che è rigogliosa rispetto al passato quindi mi dispiace veramente per loro e vi facciamo un grande in bocca al lupo speriamo che riusciate a risolvere queste queste problematiche urgenti ci dispiace per quello che è accaduto detto questo andiamo alle pagine di giornale amici perché riecco l'ultra dei covid questo è una delle prime pagine principali calo clemente rinnova taranto 28 gradi soleggiato convento di maestrare grazie Carlo amici amiche e prime pagine riecco gli ultra del covid guardiamo ed è proprio un libero libero che parte con questo titolone tornano i guffi e non le per fortuna non le restrizioni ma tornano i guffi riecco gli ultra del covid ma non c'è speranza salvano i contagi i virologi rientrano in scena il mistero reintroduce i test ma solo in ospedale e che dire c'è chi cerca la lotta bio bio politica e le parte questo articolo che tratta un argomento è un argomento che che è tornato in auge in queste ore il salgono i contagi vi dico io diverse persone che sono se si può dire perdonatemi che torno in primo piano ho diverse persone che si sono prese questa variante si può dire ammalate hanno un minimo raffreddore e la circolare del ministero della salute dice di non menziona neanche l'isolamento dice se siete ammalati e dovete andare in giro anche a lavorare usate una mascherina fine finisce qua quindi cari virologi calmi buoni tranquilli in un angolo zitti e muti non rompete i coglioni grazie scusate scusate per per la schiettezza sono un po mi vedete un po triste per quello che è successo in marocco io diversi amici marocchini e mi dispiace mi dispiace tanti veramente mi dispiace tanti e prima quindi la prima pagina di libero tutta concentrata su questi gufi che torano quindi e chi sono tutte le viro star così torno perché evidentemente ma gli mancano gli manca questa cosa qua il dubbio è l'ecito gli manca questa cosa qua no e quello che prendevano in televisione tutte le apparizioni tv gli manca la notorietà gli mancano i soldini e tutto e buongiorno robbia informazioni sull'arresto della dottoressa melissa j moore e i giornali ovviamente non ne parlano però mi andiamo a vedere cosa dice le ultime notizie vediamo cosa dice il come l'mrna cambia quella che diceva come l'mrna cambiava il mondo e vediamo se c'è qualche notizia in merito e no non c'è nulla non c'è nulla per non avrò notizie ve le darò tornando però le prime pagine di giornali non cambiamo argomento rimaniamo sui quotidiani amici vediamo cosa dice dopo libero vediamo cosa dice il giornale il giornale parla del caso santa che è inchiesta nell'inchiesta no sul caso santa che vediamo scusate che cerco di centrare la pagina il più possibile perdonatemi ok parliamo di questo è il giornale tanto ciao buongiorno a tutti buongiorno a tutti anche se non è un buongiorno per quello che è successo in marocco è veramente una cosa molto molto triste quello che è successo in marocco caso santa che è il giallo santa che ne parla il giornale tentativo illegale di acquisire le carte visibiglia un indagato e luca fazza tratta questo argomento quali manovre sotterrane stanno avvenendo intorno all'inchiesta della procura di milano su daniela santa che è su visibiglia la società fondata dal ministro del turismo dai da lei ceduta al movimento e al movimento di entrare al governo vabbè che ne capiremo di più e abbiamo le chat segrete invece questo è un argomento interessante degli ultra del reddito botte fuoco devono avere paura minacciano i gruppi whatsapp allarme per il corteo a roma abbiamo al centro pagina le mond boccia macrone delle oggi alla meloni partita la ricostra delle periferie e bocciare macrone non è così difficile a me personalmente non piace se fossi in francia sicuramente non voterei macrone cambiando quotidiano andiamo a vedere il fatto quotidiano parla di tutt'altro le banche scherzavano marchetta per mediolanum vediamo che dice questo articolo di il fatto quotidiano guardiamo sulle banche scherzavano marchetta per mediolanum la lunga retromarcia l'istituto pagherà ben 57 milioni in meno e chiaramente devono sempre parlare delle aziende alla fine di berusconi intorno a berusconi ovviamente il fatto quotidiano non ha dimenticato silvio berusconi quindi fa di tutto per parlare di parlare di aziende che di berusconi questo è ovvio ed è palese ormai ormai a tutti cambiando quotidiano amici scusate sono veramente triste per quello che successe in marocco sono veramente triste per quello che è successo andiamo a vedere la verità che dice la verità vediamo sempre peggio il treno delle transizioni non si ferma mai sempre peggio multe arresto se non hai fatto la casa green qua stanno impazzendo al parlamento inglese leggiamo questa notizia che veramente inquietante e al parlamento inglese discute una legge si discute su una legge che prevede pene detentive lo leggiamo insieme e forti ammende per chi non adegua l'abitazione a berlino dal 2024 vogliono imporre lo stop ai nuovi impianti di riscaldamento con energia fossile pensate ultime dell'unione europea rendere obbligatorie le colonine elettriche per tutti i boxe e sono fuoco qua sono folli ragazzi questa è una vera follia l'europa fuori da ma io lo dico paragone non lo dice più non è vero lo dice anche già luigi ma in modo tranquillo io invece lo dico in modo netto ragazzi fuori dall'europa prima possibile siamo dentro una un'europa che oltre a non rappresentarci fa solo dei danni ci vuole distruggere fuori dai coglioni dall'europa fuori fuori dalle palle dobbiamo andare noi ragazzi fuori immediatamente scusate se lo dico così mi dire come si fa si fallisce ma falliremo intanto fallire fra un anno fallire adesso cambia poco ci rifaremo noi italiani siamo in grado di rimboccarci le maniche e ricostruire tutto fuori da questa europa prima possibile poi dite quello che vorrei un vostro parere ma che cosa serve stare in europa ragazzi fuori dall'europa lo dico io se già luigi lo dice anche lui ma in modo moderato di noi lo dico diretto diretto ma avete rotto i coglioni fuori da st'europa ogni giorno se la tirano fuori una cosa poi le auto elettriche ce le vogliono imparare tutte costano 50 mila euro ma chi se la può permettere un'auto elettrica poi se arrivassimo a 3 milioni di auto elettriche come ricarichiamo con le colonnine ma facendo tre ore di coda per aspettare che ho cinque ore così fermi come dei fessi perché aspettiamo che la colonnina si arriverà ma di cosa stiamo parlando ci hanno declassato tutte le case ci stanno distruggendo l'economia c'è disintegra le aziende le fabbriche il turismo è tutto fuori da st'europa ma chi ce l'ha fatto fare siamo in europa per gente come come mortadella siamo siamo in europa per gente come prodi col martellone ma di cosa parliamo ragazzi stendiamo un velo pietoso perché fuori veramente da questa gabbia di di folli via tornando alle notizie e guarda a proposito di mortadella lo trova al centro no tutto contento lui lavorerete un giorno in meno no diceva entrati in europa che venirete come un giorno in più lavoro un giorno in meno prodi eh dai eh però grazie beh ma per favore per favore cambiamo quotidiano la francia ci invidia la meloni ma anche questa notizia qua è simpatica questa simpatica la francia ci invidia meloni e via ci credete qualcuno ci crede ci la rivelazione delle moon george meglio di macron ragazzi è un'offe dire george meglio di macron è un'offesa perché macron ragazzi per me a livello politico è uno zero assoluto questo mio parere cioè a me proprio macron non piace non piace e la politica della francia nei confronto soprattutto dei paesi poveri non mi piace quindi fuori da tutti da questa europa sono d'accordo con voi ragazzi denny davide mette le facce da pagliaccio non so chi si riferisca davide davide forse ho capito che uno che ha faccia da mortadella può essere non lo so il dubbio è lecito anziché parlare bla 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 dice sentiamo cosa dei giornalisti sapete solo parlare uomini e donne facciamo i fatti carmene fai io non essendo un giornalista concordo con te concordo con te in italia non mi sono nascritto all'estero ma in italia non mi sono nascritto nell'ordine dei giornalisti italiano perché per me gli faccio informazione all'estero con ordini stranieri perché in italia io non mi riconosco torniamo qua e ne sono orgoglioso di non essere iscritto agli ordini giornalisti in italia una tassa sulle mani infatti mi hanno cancellato dall'elenco della classifica nonostante faccia più numeri di mentale tutti quegli altri personaggi il messaggero una tassa sulle multinazionali pronto il decreto prelievo minimo al 15 per cento sugli utili in italia caro spesa accordo sullo sconto quindi le multinazionali tassate ma voi lo sapete che poi alla fine le multinazionali giusto poi che paghino le tasse ma sapete chi le pagherà alla fine possono fare le tasse sulle amazon del caso netflix queste multinazionali ma alla fine le fan pagare a noi a chi chi pensa che si ingegni qua chi pensano che le facciano pagare alla fine ai cittadini ignari questo è ovvio hai perfettamente ragione grazie marisa grazie marisa buongiorno da carpi sebastiano vieni stasera al frigo a modena dai vieni a trovarmi sebastiano questa sera al frigo di modena un locale nuovo si sta benissimo cucina tradizionale dai vieni che stiamo insieme grazie ragazzi questa sera sono al frigo domani in piazza grande a modena ve lo ricordo andiamo a vedere altre paginine vabbè una tassa sulle multinazionali e questo è la prima pagina del messaggero vediamo chi c'è ancora chi c'è ancora vediamo l'unità cosa vediamo cosa dice l'unità dai vediamo l'unità 20 morti dopo brandizzo e il capitalismo bellezza arturo scotto sembra un giornale ragazzi l'unità sembra un giornale del 1940 sembra l'unità sembra un giornale è un giornale è nuovo perché l'hanno appena rifatto sembra un giornale del 1940 veramente triste non lo sto neanche a leggere perché mi fa mi fa veramente mi crea mi crea disagio proprio tristezza proprio e anche il mattino di napoli non parli credibilmente di calcio e parla della tassa sulle multinazionali di solito le non gioca napoli in questi giorni è strano e tassa sulle multinazionali arriva l'imposta sui ricavi in italia prelievo minimo al 15 per cento decreto la prossima settimana viceministere o misura per la famiglia imprese tredicesima e taglio dell'irpa priorità speriamo 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 cambiamo quotidiano vediamo che dice il gazzettino oggi visiti fisco arriva la tasso sulle multinazionali anche il gazzettino ed è giusto che sia è giusto che sia così prima pagina volevo cercare il resto che è il resto del carlino che cambia sempre argomento un po fuori dal dagli a come linea un po differente dagli altri non strage delle donne 2000 orfani la burocrazia crea ostacoli alle leggi che prevede tutela aiuti alle famiglie delle vittime il monito di mattarella femminicidi barbarie sociale decreto caivano i dubbi della chiesa sul giro di vite pd diviso cavallo ex giudice minorile abbassare l'età imputabile non è una soluzione e qual è la soluzione è per i baby killer di 15 16 17 anni qual è la soluzione lasciarli libere lasciarli liberi di andare a stuprare uccidere ragazzine questa è la soluzione secondo voi ragazzi da 14 anni se uno in grado di fare quelle cose le in grado anche di capire ok non prendiamoci per il culo che il 14 15 anni di oggi come il 20 anni di 30 anni fa quindi uno di 14 15 16 17 anni che promette un reato grave io sapete cosa farei non puoi andare in galera perché 14 15 anni agli arresti domiciliari ci pensano i tuoi genitori che non sono stati capaci evidentemente di educarti poi in alcuni casi non c'entrano i genitori è vero ma in molti casi il problema sono i genitori che non hanno sono stati capaci di educare i loro figli perché ma che che gli posso dire un piccolo che gli posso dire che gli posso dire ragazzi ma abbiamo di già abbiamo di ci sono dei figli che vedo che trattano i genitori in modo indegno a me se mio figlio mi manda a quel paese mi offende o fa quello che gli pare io due calci nel culo gli ridò mio figlio e nessuno può però vivi di tagli due calci nel culo ti prendo cellulare te lo spacco cinno cioè se mio figlio fa una cazzate e mi offende picchi a qualcuno fa dei danni io prendo cellulare glielo spezzo davanti alla faccia glielo spezzo dico adesso tu stai in casa seduto tutto il tempo a guardarti lo specchio ma ragazzi bisogna il problema sono i genitori i problemi sono molti i genitori poi in alcuni casi sono sono incontrollabili figli e non con un caso proprio dei problemi purtroppo che vanno al di là dell'educazione dei genitori ma il problema vero sono i genitori ragazzi mia madre mia madre non mi ha mai toccato mai una volta lei mi guardava negli occhi poi diceva non è un problema non ti do non ti do una lira perché c'era le lire non ti do una lira vuoi uscire a far cazzate non ti do una lira e poi stavo in casa maria munno tu sei un uomo puoi farlo ma devono farlo gli uomini amici devono fare gli uomini devono far capire che le donne vanno rispettate se se la mamma ti dice a tu cazzo figlio figlia fai a perché manca rispetto dei figli nei confronti delle donne perché molti uomini non insegnano il rispetto nei confronti della mamma nei confronti delle donne questa è la verità purtroppo è la vera verità scusate se ho questo sfogo però mi sembra di vivere veramente in un mondo al contrario cioè mi sto leggendo sto libro qua ragazzi il mondo al contrario dice tutta la verità sono arrivato alle ultime guarda su una pagina ve lo dico subito 309 su una pagina 309 in due giorni ragazzi la verità che purtroppo mancano i pantaloni in tante famiglie tante famiglie c'è marito e moglie il marito il papà gli mancano i pantaloni è questo e non è questione di è che l'uomo dovrebbe fare l'uomo e la mamma deve essere la mamma e deve essere il fulcro della famiglia ma l'uomo deve fare l'uomo deve fare l'uomo è quello che ci manca scusate il discorso non volevo non voglio rompere scatole nessuno non è un discorso di sesso maschio femmina attenzione è un discorso di papà padre di famiglia cazzo padre di famiglia ci sono dei ci sono dei papà che se ne fregano ragazzi hanno più importante la partita di calcio che la famiglia che i figli che l'educazione dei figli ci sono dei figli che non vanno a scuola e i genitori stanno zitti ma stai scherzando mi ti do di calcio in culo ti porta a scuola calcio in culo ma cosa stiamo dicendo e io mio figlio faccio quello che voglio rispettando le leggi nessuno mi può proibire di punire mio figlio scusate scusate i miei figli sono educati chi mi conosce i miei figli sono educatissimi perché se non vanno dritti vanno dritti cioè non è che sto a pensare se non vanno dritti vanno dritti i figli devono andare dritti perché i genitori gli hanno insegnato andare dritti vabbè scusate ma sono dilungato in questo discorso ma un discorso che non fa nessuno mi sembra di vivere in una società dove i falsi buonisti no guai dire qualcosa tuo figlio noi pittini non possiamo noi educhiamo tutti facciamo vedere ragazzi educazione manca l'educazione manca il pugno duro e l'educazione fine detto questo io ripristinerei io sono cristiano lo ammetto lo dico tutti i giorni sono cristiano evangelico lo dico chiesa cristiana non penso papa non papa non me ne frega niente io penso a gesù penso alla preghiera e vi dico questo rispetta i genitori rispettate i genitori e i genitori devono farsi rispettare il problema che i genitori non sanno più farsi rispettare amici ma anche l'educazione ci fanno vedere tutti i giorni su mainstream delle porcate e con questa chiudo a me del matrimonio di scano col suo moroso non me ne frega niente può fare quello che gli pare però evitate di farmelo vedere tutti i giorni avete rotto i coglioni tutti i giorni con queste foto qua basta basta ciao maria dice uno no ti sbagli non mi sbaglio io la penso così ciao a tutti buona giornata